Il trofeo Kenwood, un appuntamento estivo imperdibile per noi giovani appassionati di allora. Era il classico triangolare che andava tanto di moda in quel periodo e metteva di fronte tre squadre con tre partite da 45 minuti. Il 29 luglio 1993 l'organizzazione scelse come sede lo stadio Friuli di Udine, ora Blue Energy Stadium, e come partecipanti Milan, Sampdoria ed Udinese. A vincere il trofeo furono i Liguri, ma ad illuminare la serata fu Dejan Savicevic. Il genio, dopo il gol di Massaro, con un gioco di prestigio tipico del suo repertorio, mandò in rete Giovane Elber, promessa brasiliana acquistato da Silvio Berlusconi che però non trovò mai spazio nella rosa di capello. Questo gol risulterà storico in quanto l'unico realizzato in Italia dal sudamericano con la maglia del Milan.